Dopo due anni di pausa, dovuta alla pandemia, quest'anno abbiamo ripreso la bellissima esperienza del presepe vivente Biancaro. Questa è ormai la terza edizione da quando la comunità parrocchiale di Bianchi con l'ausilio del comune hanno voluto realizzare questo bellissimo presepe vivente. Il presepe vivente che quest'anno viene celebrato in un'occasione ancora più importante ed è l'occasione degli 800 anni del primo presepe vivente, il presepe voluto da Francesco D'Assisi a Greccio. Questo è lo spirito con cui con i circa 80 partecipanti abbiamo voluto realizzare questa manifestazione. Una manifestazione in occasione del Natale che ci ricorda che cosa significa accogliere Cristo nella nostra vita, accogliere Cristo nella nostra storia, nell'umiltà della nostra carne. Nel presepe abbiamo circa 20 postazioni con tutti i mestieri dell'epoca, con la partecipazione di 80 figuranti circa, più tutto il personale che ha contribuito alla realizzazione delle opere in legno che servono per l'allestimento delle strade del presepe. Il presepe vivente ha come scopo quello di creare comunità in questo piccolo paesino dove ancora si sente viva l'atmosfera natalizia.